il tuo santissimo nome signore alleluia siamo qui alla tua presenza signore per la tua volontà alleluia grazie per averci ancora questa sera condotti nella tua casa signore grazie per tutto quello che ci hai provveduto e grazie per tutto quello che ci provvederai sia fisicamente materialmente e soprattutto spiritualmente gloria al tuo nome mio signore dacci sapienza di saperti signore onorare e di saperti ringraziare veramente con sentimenti veri profondi alleluia gloria al tuo nome quindi ogni cosa nella nostra vita signore si svolga con la guida perfetta dello spirito tuo santo affinché non abbiamo più a vivere signore alla maniera umana signore quella tradizionale dell'uomo ma che possiamo vivere secondo signore gli angeli del cielo secondo come tu signore guidi a maestri gli angeli del cielo alleluia gloria al tuo nome vogliamo esserti figli in ogni cosa veramente o signore come Gesù quindi o signore quello che hai fatto con Gesù fallo con noi in noi dentro di noi parla tua gloria e per la gloria di Gesù insieme a te benedetti in eterno amén alleluia amén il signore che vince pace 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 a voi che tenete in mio nome e poi dunque il sogno e il servolo di gloria sul regno del tuo padre mi servite di cura al cuore non perdete la via del cielo ma come Gesùmane il signore di Cristo il figlio di gloria nel tuo padre E dovete comprire la mia vita come il tempo in mezzo a voi. Celebrate il solo Dio, il cui nome è vita e pace. Non servite di fronte al mondo, fino al giorno che in gloria volverò. Già di dove un corpo so, in una mente, in un'altra parecchia di riscattate di vita al mare, sempre in piedi, sempre in piedi e teani. Questo vuole il Padre Dio, questo fanno in cielo gli angeli. E imitate la testa pura. E per voi la luce apparirà. Amen, alleluia, alleluia. Il Signore non ci insegna a odiare, alleluia. Anzi, ci insegna ad amare i nostri nemici. Perché effettivamente c'è una cosa dove si deve veramente odiare, ed è il male, il peccato. Quello sì, vedete, più lo odiamo e meglio è. Alleluia, poi tutte le altre cose non le dobbiamo odiare, dobbiamo amare. E se effettivamente noi vediamo delle cose che non vanno, che non vanno bene, bisogna non odiare appunto, ma pregare. Per esempio, ecco, nel mondo, quante ingiustizie che ci sono. E che facciamo? Ci mettiamo a odiare ora questo, ora quell'altro, ora quell'altro ancora? Alleluia. No, preghiamo per loro. Ecco, preghiamo. Ecco, ci sono state le lezioni, no? Insomma, vedete, il mondo fa ciò che è suo, alleluia. Eppure, vedete, ignorano, vedete, gloria a Dio. Vedete come, giustamente anche ai nostri giorni, come ai giorni del profeta Osea, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Vedete, gloria a Dio. Perché ci sono state le votazioni qui in Italia, no? Ecco, già il, diciamo, il popolo, tutto quanto, e compresi quelli che si sono candidati, avrebbero dovuto conoscere la verità. Che tutte le autorità sono state istituite da Dio, ogni autorità è istituita da Dio. Quindi, le autorità devono rendere conto a Dio. Alleluia. Come noi dobbiamo rendere conto allo Stato? Lo Stato deve rendere conto a Dio. Ma chi ha ammaestrato in questo periodo i futuri deputati, senatori, anzi, tutti quelli che si sono candidati? Chi li ha ammaestrati a livello spirituale? Vedete? Quindi, i nostri deputati e senatori, mi dice a qualcuno, ma loro sono credenti in Dio. Sì, ma tutti sono credenti in Dio. Però, l'Apostolo Paolo che cosa dice? Non abbandonate la comune adunanza, cioè non abbandonate la chiesa, come alcuni usano a fare. Dice quello, ma dove hanno la chiesa? Sì, ma se vede un frutto? Che il Signore non l'hanno menzionato. Alleluia. Quindi, alleluia, che chiesa? Nelle chiese dove loro vanno, le chiese che loro frequentano, che cosa hanno imparato? Che cosa imparano? Imparano niente. Perché noi vediamo che spesso si sente che alcuni senatori e deputati non si sono accontentati di un bello stipendio che pigliano mesi. No. Hanno anche incassato delle mazzette come gli avano. Vedete quindi che a livello spirituale, come sono veramente preparati, si dice sì, ma ci sono quelli che sono onesti. Bravo, è il loro dovere. Perché se alcuni sono onesti e altri sono disonesti, quelli che sono onesti non si possono vantare nei confronti dei disonesti. Perché quelli che sono onesti stanno facendo il loro dovere nei confronti della nazione e nei confronti di Dio soprattutto. Quindi queste cose, vedete, loro prima di... Guardate, il Signore mi sta dando da spiegare questo. Dice, dopo che le lezioni fane, ecco, se vede che così devono dare. Allora, praticamente, come che usano fare, che se uno sa fare la cresima, mi pare che fanno così, no? Li preparano prima. Eh? Se si devono sposare, li preparano prima. Ci fanno un periodo di preparazione, insomma... O no? Sì, sì, sì. Allora, ma capito, certo faccio che mi vanno così? No, pure la prima comunione. Pure la prima comunione. Li preparano. Oh, certo, l'hanno a fare. Oh, e allora... Ora dico io... E voi non preparate tutti i partiti a livello spirituale, non religioso, spirituale, in modo tale che loro affrontano il, diciamo, il campo elettorale con una preparazione spirituale come quelli che devono affrontare un battesimo, un agresimo, la prima comunione o un magimonio? E meno, forse, alleluia, che i futuri deputati, i futuri senatori, il futuro capo del Consiglio, come si chiamano, io ho la politica non tanto per l'attenzione, e poi il capo dello Stato stesso. Fratelle, non basta. Ecco, per esempio, io ho visto che alcuni, alcuni, diciamo, capi, esponenti dei partiti sono andati e ci mandano a baciare a mano Papa. Ma quello non basta. Baciare a mano. Che cosa sta? Alleluia. Ma sei preparato a livello spirituale? Sai che cosa sta scritto nella parola di Dio? Che chi governa deve essere guidato dallo Spirito Santo? Sai che ogni cosa è di Dio? Vedete, queste cose, ecco perché ci sono truffe, ci sono mazzetti, ci sono estorsioni, ecco perché non vengono preparati a livello spirituale. Alleluia. Quindi, prima, vedete, perché hanno messo da parte la parte più importante, la parte spirituale. E Gesù ha detto, io vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Quindi, che significa, alleluia, che tutto procede da Gesù. E Gesù ha detto, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Per fare chi? Per vaddare tutti gli errori che commette l'umanità? Allora, quindi vedete, fratelli, in che mondo viviamo? Ecco perché, vedete, noi sì, è il nostro dovere andare a votare. Però, gloria a Dio, non ci sono degli elementi veramente spirituali, non religiosi. Perché essere religiosi è una cosa, essere spirituale è tutt'altra cosa. Alleluia. Perché, guardate, una volta, ora non lo so se lo fanno ancora, ma nelle scuole, quando io ero ragazzino, andavamo a scuola e, prima di iniziare, diciamo, le lezioni, a maestra, o maestro, perché allora c'era il maestro a maestra, no? Le facciano fare la preghiera, facciano una preghiera. Ah, bene, gloria a Dio. Ora non lo so se lo fanno ancora nelle scuole, va bene? Ora, fratelli, in tribunale, la legge è uguale per tutti. Poi, e c'è un gran crucifisso? Nelle scuole c'è un crucifisso? Diciamo, nelle scuole, sì, in vari posti c'è un tribunale, crucifisso. Ma iniziano, per esempio, tutti con la preghiera, però il crucifisso non l'hanno toccato. È la preghiera quello che conta. È la preghiera che mette in comunione con Dio. È la preghiera che ci dà la sapienza che viene dall'alto, come dice San Giacomo. Perché la sapienza, dice, che hanno gli uomini terreni, essa è carnale ed è diabolica. Quindi per poter, effettivamente, possedere la vera sapienza, che viene dal cielo, bisogna pregare. Alleluia. Quindi, prima di iniziare ogni riunione, sia al Senato, sia, diciamo, dappertutto. Ecco, la preghiera. Guardate, se effettivamente ci fosse stata la preghiera, in questa elezione che noi abbiamo assistito, in tante campagne elettorali che hanno fatto, guardate, se ci fosse stata veramente la preghiera, si sarebbero comportati in quella maniera l'uno contro l'altro? L'uno che parla male dell'altro, l'altro che invece contro l'altro, che parla che si ammazzano, come i cani. Eh? Se ci fosse stata la preghiera, eh? Tante frasi non si sarebbero pronunziate. Se ci fosse stata la preghiera, avrebbero detto, noi dobbiamo governare nella nazione, dobbiamo aiutare i nostri fratelli italiani, preghiamo che il Signore ci guidi, alleluia, e faccia salire al potere quelle persone dotate di quella sapienza che viene dall'alto, non dalla sapienza che viene dalla terra umana, che è umana, dice San Giacomo, carnale e diabolica. Vedete in che non è questo, vedete, ehm, un qualcosa soltanto che noi stiamo notando, notiamo in Italia, ma in tutto il mondo. Forse l'America farà qualcosa, ecco, che qualche preghiera, un pensierino al Signore, ma gli altri, ecco, e il mondo, vuole portare avanti, vuole portare pace nel mondo senza interpellare Dio, senza rivolgersi a Dio, senza chiedere, ehm, la col, non la collaborazione di Dio, ma di essere noi terreni collaboratori di Dio. Perché, vedete, ehm, i deputati, i senatori, devono essere, capi di Stato, devono essere collaboratori di Dio. Alleluia. Igregi, senatore, deputati, ministri, gloria a Dio, alleluia, che vi reputate religiosi, non di certo spirituali, non sapete che il Re Davide interpellava, prima di agire, interpellava il profeta, se poteva fare una cosa, Salomone stesso, Signore, il Salomone, ha supplicato, le demono, Signore, dammi sapienza, per poter, ehm, governare la Tua nazione, il Tuo popolo, dove sono questi credenti, ehm, diciamo, ehm, deputati, senatori, capi di Stato, che chiedono al Signore, ehm, non lo menzionano mai, io, tutte le stesse cose, telegiornale e cose varie, non ho sentito mai, dalla bocca di un deputato, di un senatore, di qualcosa, il nome di Gesù, non l'ho sentito, alleluia, è la colpa, è di chi, può, parlare di queste cose, è tace, perché ci sono religiosi che potrebbero, anzi, dovrebbero parlare, dovrebbero insegnare queste cose, e invece, invece, tacciano, e il tacere, vuol dire confermare, perché se uno tace, conferma quello che gli altri fanno, se uno invece parla, dice, no, aspetta, qua stiamo sbagliando, alleluia, gloria all'altissimo, vedete, io non lo so, ma, stiamo entrando, nel punto cruciale, alleluia, della preparazione, dei veri senatori, dei veri deputati, dei veri capi di Stato, che temono veramente Dio, e non si muovono, prima, di aver pregato, e interpellato Dio, come si deve, come faceva, il re Davide, come faceva, il re Salomone, come facevano, altri re, saggi, saggi, perché tutti quelli, fratelli, tutti quelli, e la Bibbia, ci testimonia di questo, eh, che tutti quei re, re di Giuda, re di Israele, perché allora erano divise, in due, regni, eh, tutti quei re, che non erano timorati di Dio, hanno sempre portato, il popolo, alla distruzione, alla schiavitù, perché, altri popoli, invasori, li hanno resi schiavi, e li hanno deportati, chi in Babilonia, chi in Assiria, e in altri posti, amén, per non aver, onorato, Dio, vedete, quindi fratelli, l'Apostolo Paolo, ci esorta, a pregare, per tutte le autorità, continuiamo a pregare, chissà, qualche cuore semplice, si trovi ancora, qualche cuore sensibile, che al, diciamo, grazie all'intervento, della nostra preghiera, si faccia, muovere, dallo Spirito Santo, per il proprio bene, e per il nostro bene, cioè bene, di tutta quanta la nazione, e del mondo intero, amén, gloria a Dio, alleluia, bene, abbiamo cantato, è vero? Ora vogliamo andare in preghiera? Alleluia, amén, visto che ci sono state lezioni, qualunque sia il risultato, non ne interessa, basta che, chiunque sia che governa, che sia guidato, dallo Spirito Santo, amén, andiamo in preghiera. Benedetto tu sei il Signore, alleluia, 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 grazie di tutto, Signore, come ti è stato chiesto, Signore, ti preghiamo, quindi per tutte le autorità, Signore, metti, Signore, il tuo Santo Spirito, Signore, in loro, affinché ci possa essere, veramente, la pace nel mondo, Signore, e possiamo, Signore, godere anche noi, Signore, di quella sana, amministrazione, gloria al tuo nome, perché, Signore, se non c'è la guida del tuo Santo Spirito, ci sarà, continuerà ad esserci, una cattiva amministrazione, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, e noi ci sentiremo tutti, noi, Signore, i nostri figli, Signore, e anche, quelle, Signore, che non hanno un posto di lavoro, che non hanno un tozzo di pane, per poterlo mangiare, dare ai propri figli, oh, Gisela, passita, la passia, la maia, alleluia, Padre, Padre mio, Padre mio, glorifichi il tuo nome, Signore, intervieni, intervieni dal cielo, Signore, sia fatta la tua volontà, qui in terra, come nel cielo, sì, Signore, ma se tu non intervieni, Signore, l'uomo continuerà, Signore, a sperperare, Signore, a fare del male a se stesso, e dal prossimo, quindi ti preghiamo, Padre, per amore del tuo nome, e per amore di Gesù, benedetti in eterno, Amen, Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Così per te ti lucio il tuo tuo lavoro, da dove sei e grazie a me vicino. E tutte le ozze fresche e profumate, intorno scordo in buona terra forte, prezioso il cielo e presto a te raccorte, e con l'esterno in cielo ardente e verte, soltanto tu sei l'acqua pura della vita, e solo in te noi bene della gloria eterna, tu sei la luce in me, la gioia mia tu sei, vengo la separa che può da te. Il tuo potenza è in me lo conosciuto, la sola altezza che sovrasse il mondo, che in carità l'amore è più profondo, è in verità il nome più compiuto. Se ne credo ancora, forte e ombra, il giorno ti andà, il vino del mio suo forte, ti credo, Dio, risusciti da morte, e trovi in me fedele il tuo ricordo. Soltanto tu sei l'acqua pura della vita, che solo in te noi bene della gloria eterna, tu sei la luce mia, la gioia mia tu sei, e nulla separa chi può da te. Allora leggiamo la parola del Signore, la vediamo scritta nel libro della Genesi, capitolo 19. Ora i due angeli giunsero a Sodoma, ma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, egli si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra, e disse, miei signori, vi prego, venite in casa del vostro servo, passatevi la notte e lavatevi i piedi, poi domattina potrete alzarvi presto e continuare il vostro cammino. Essi risposero, no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli insistette così tanto che vennero da lui ed entrarono in casa sua. Quindi egli preparò loro un banchetto e cosse dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa giovane e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove. Chiamarono Lot e gli dissero, dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Lot uscì verso di loro davanti alla porta di casa, chiuse la porta dietro di sé e disse, Dei fratelli miei, non comportatevi in modo così malvagio. Sentite, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Dei lasciate che ve le porti fuori e fate loro quello che vi pare. Ma non fate nulla a questi uomini, perché essi sono entrati sotto la protezione del mio tetto. Ma essi dissero, fatti in là. Poi continuarono, costui è venuto qui come straniero e vuol fare da giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini allungarono le loro mani e tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono quindi di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccola al più grande, così che si stancarono nel tentativo di trovare la porta. Allora quegli uomini dissero a Lot, chi hai altro tu qui? Fai uscire da questo luogo i tuoi generi, i tuoi figli e le tue figlie, e chiunque tu abbia in città. Poiché noi stiamo per distruggere questo luogo, perché il grido dei suoi abitanti è grande davanti all'Eterno, e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano sposato le sue figlie e disse «Levatevi, uscite da questo luogo, perché l'Eterno sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che egli volesse scherzare. Come spuntò l'alba, gli angeli sollecitarono Lot dicendo «Levati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui affinché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma siccome egli induggiava, quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue figlie perché l'Eterno aveva avuto misericordia di lui. Lo fecero uscire e lo condussero in salvo fuori della città. Come essi li conducevano fuori, uno di loro disse «Fuggi per salvare la tua vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Salvati al monte che tu non abbia a perire». Ma Lot rispose loro «No, mio signore, ecco il tuo servo ha trovato grazie agli occhi tuoi e tu hai usato grande misericordia verso di me salvandomi la vita ma io non riuscirò a raggiungere il monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca. Ecco, questa città è abbastanza vicina per potervi arrivare ed è piccola. De, lascia che io fugga là, non è essa piccola e così avrò salva la vita». L'angelo gli disse «Ecco, io ti concedo anche questa richiesta di non distruggere la città di cui hai parlato. Affrettati, fuggi là perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto». Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si levò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato davanti all'Eterno. Poi guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra come il fumo di una fornace. Così avvenne che quando Dio distrusse la città della pianura, Dio si ricordò di Abramo e fece allontanare Lot di mezzo al disastro quando distrusse le città dove Lot aveva dimorato. Alleluia. Amen. Dio è meraviglioso, alleluia. Meraviglioso per tutto quello che compie nella nostra vita anche quando, vedete, noi non ce ne accorgiamo. Anzi, il Signore, vedete, agisce sempre perché è nel suo essere che ama l'umanità. Ma, vedete, l'ama e che ama l'umanità. Che lui, vedete, aspetta a lungo per poter intervenire nella maniera dura. Vedete, questo ci deve far meditare perché tante volte magari uno vive nella maniera scorretta e dice ma se il Signore non mi ha detto niente, il Signore non mi dice niente quindi significa che posso continuare a fare quello che sto facendo. È giusto? No, no, è giusto per dire che uno la pensa così ma non chi la pensa giustamente per dire che... Allora, quindi, se uno sta sbagliando attenzione, se uno sta sbagliando non è detto che l'intervento da parte di Dio deve venire subito no, perché magari il Signore aspetta una volta parlava per mezzo dei profeti oggi, diciamo, ci sono le chiese il Signore parla per mezzo, diciamo, dell'angelo della chiesa a maestra, ecco, tutti i fratelli, le sorelle, la chiesa in generale, no? e ognuno di noi, vedete non deve aspettare che il Signore parli personalmente per rimediare agli errori che ha commesso o che sta commettendo perché se già il Signore ci insegna che dobbiamo vivere in una certa maniera e noi stiamo vivendo invece diversamente stiamo facendo l'incontrario e non stiamo ricevendo nessuna risposta da parte di Dio nessuna riprensione direttamente, personalmente questo non sta a significare che il Signore sta approvando gli errori che noi stiamo facendo è perché Lui è lento all'ira di grande benignità amén però, dici, fuoco consumante verso i disobbediti i disobbediti, cioè, che continuano a disobbedire amén, gloria a Dio quindi, vedete, dovete pensare che ecco, il Signore per intervenire però poi è troppo tardi aspetta sempre quasi il massimo della nostra trasgressione perché prima Lui ci ammaestra ci insegna come dobbiamo vivere non è che tutte le volte che Lui ci insegna una cosa ci deve punire Lui ci ammaestra senza, in poche parole per esempio, noi abbiamo i figli, no? Noi quando loro sbagliano che subito li puniamo dandogli botte? No intanto loro vivendo in casa vengono ammaestrati dai genitori è giusto noi genitori li ammaestriamo gli insegniamo quello che devono fare e quello che non devono fare quindi nel momento in cui loro fanno quello che non devono fare uno che cosa fa? glielo dice una prima una seconda possibilmente una terza volta no? di non fare ciò che stanno facendo di sbagliato è giusto? uno non è che subito agisce con le maniere dure cioè con le botte no? e allora se uno allora i figli non è che devono pensare guarda mio padre oppure mia madre non mi stanno danno botte ma lo stanno solo dicendo ciò significa che lo posso fare perché altrimenti se io non lo potessi fare mi avrebbero dato già botte eh? ci foste un figlio di voi oggi? vuoi che siete grandi? eh? non facciamo più o meno così? per noi dove per esempio c'era mia mamma che faceva neno ti disse non fare tutta la cosa allora io va bene mamma eh? oppure mio papà senti non facciamo più o meno allora faceva niente mi disse solo a parola quindi faceva finta che non capiva appena io devo dare uno l'occhio facevo quello che dovevo fare allora mio papà e mamma oppure mia mamma faceva ma io che ti disse? ti disse non fare vedi che ti deve o adesso io pure non devi fare ecco non facevano così a meno come mio papà facevano così io questo genotore non lo sa comunque e allora quando mio padre o mia madre eh? vedeva che io continuavo a fare quello che non dovevo fare eh? nonostante io mi ricordo fratello perché perché io mi cullavo tanto ma sì ma mia mamma mi dice e mi cullavo no? quando arrivava mio papà invece e scioglì a currì la cintura e mi suonava da santa ragione allora io dicevo allora vedeva non doveva fare ma era troppo tanto perché già mi aveva dato i colpi di cintura no? oh allora io ho portato l'esempio su di me poi voi che non facevo non lo so ma credo che tutti i piccolini facevano stavano allora il Signore agisce così anche con noi quando noi sbagliamo attenzione perché perché così il Signore non parla la pulpa quanto vuote ha parlato io ho certo vado manco furia a parlare più quanto vuote l'ha detto questa cosa è meglio che uno certe volte dice ma va a finire che non lo dico più perché uno poi si stanca ecco mentre l'uomo si stanca e Dio magari non si stanca dice aspetta una ora poco vediamo se si Gitz no come vuol dire e allora ora i sodomiti vedete non pensate che il Signore li abbia presi alla sprovvista perché chissà quante volte già con il comportamento di Lot eh loro eh ricevevano la testimonianza di Dio di ciò che è giusto agli occhi di Dio perché vedete come loro lo sapevano costui è venuto qui dice come straniero dove è qua eh dice eh ma esse dissero fatti più in là poi continuano costui è venuto qui come straniero e vuol fare da giudice ah lo sapevate che è venuto come straniero quindi sapevano le sue origini gloria a Dio amen gloria a Dio quindi Lot aveva eh quindi dato eh testimonianza di Dio ora se effettivamente Lot riusciva eh in quella città a a mantenersi puro agli occhi di Dio giusto agli occhi di Dio eh eh fratelli non è che eh i Sodomiti eh erano diversi da Lot perché tutti abbiamo la stessa natura amen le origini dell'uomo sono le stesse tutti dicendiamo da Dama ed Eva quindi noi diciamo guarda uno esce da un padre uno da un'altra quindi e questa è una cosa meravigliosa che ha fatto Dio perché se il Signore avesse popolata la terra eh per esempio creando eh cinquanta Eve e cinquanta Adama no allora dice ma io guardavo il sogno figlio dell'altro oppure quello è il figlio e quindi apposta non quello agisce meglio e l'altro no gloria a Dio no vedete anche questo vedete Dio ha fatto un solo uomo una sola donna e da lì tutta l'umanità in modo tale che non può dire ah perché tu sei figlio di Udezio Adamo Uintio Adamo oppure la quinta Eva no tutte quindi questo il Signore per farci capire che come esistono le persone corrette e anche le persone che non sono corrette potrebbero vivere da persone corrette o no sono riuscito a farmi capire perché siamo tutti figli del stesso padre della stessa macchina eh quindi dentro di noi tutto sommato c'è lo stesso TNA tutte se vada 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 bella cucina che è questo qui discende da Adamo quindi perché siamo così allora quindi il Signore ha dato vedete a Sodoma e Gomorra e tutte quelle altre città o paesi vicini no ha dato sempre questa possibilità di ravvedersi d'altra parte come ai tempi di Noè e Gesù stesso l'ha detto come dice è accaduto come avvenne ai tempi di Noè e di Sodoma e Gomorra vedete che Gesù li menziona ma perché quindi perché a loro ha dato la possibilità di ravvedersi di vivere correttamente secondo gli insegnamenti di Dio amè quindi ci sono stati quelli che sono stati sensibili e ubbidienti al Signore allora si sono mantenuti giusti ma in tutto Sodoma e Gomorra pensate che c'era solo Lot con la sua famiglia alleluia amè che poi erano solo tre facendo poi tirando le somme erano solo tre e allora e guardate come il Signore ci fa capire che Lui aspetta sempre il culmine della trasgressione per intervenire e punire amè in poche parole se vi porto questo esempio su di me così non si punge e non si perché non gli se lo lavo con me dice fratello tanto mascolo che femmine se io seguitelo se io sto sbagliando eh e riconosco che sto sbagliando e il Signore non mi dice niente non mi devo cullare e dire guarda il Signore non mi sta dicendo niente quindi sapete che posso sbagliare posso continuare no perché il Signore sta aspettando che io raggiunga il culmine della trasgressione per intervenire e punire amè riesco a farmi capire quindi attenzione perché se lo Spirito non dico perché non tutti hanno lo Spirito Santo ma l'alito di vita da parte di Dio che ha dato la coscienza all'essere umano la coscienza suggerisce ciò che è giusto da ciò che non è giusto è giusto? alleluia poi se il Signore ci ha dato questo comandamento ama il tuo prossimo come te stesso però non è che bisogna essere laureato per dire me stesso che vuol dire a me me stesso io a me piacerebbe ricevere questo torto mi piacerebbe che gli altri mi facessero questi torti questo danno dice no e allora non lo farai manco tu con gli altri ecco fratelli noi prima di agire dobbiamo appunto è semplicissimo ama il tuo prossimo come te stesso io sto facendo così ma se al posto mio lo stesse facendo quello o quella a me piacerebbe dice no e allora non lo farei se dice senti io sto facendo così eh senti se lo facesse quella persona nei tuoi confronti ti piacerebbe dice a me si allora fallo ma se dice no non ti piace allora non lo fare non aspettare che il signore si riveli perché tanti magari aspettano arriva la cera vediamo se il signore mi dice sì allora ho fatto se il signore mi dice no non lo faccio ma insomma ma che vuoi che il signore ci riveli le cose che ci insegna dal pulpito gli ammaestramenti che ci dà non ho capito è giusto ecco vedete gloria a Dio ora tanto è vero vedete che quando il signore è sceso con gli altri due angeli e si fermò da Abramo per mangiare sotto alle verze di Manre lì dove è stato poi dice il signore l'eterno disse ad Abramo dice ecco siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave alleluia dice ora scendono per vedere se si hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me in caso contrario lo saprò poi dice quegli uomini si allontanarono e si avviarono verso Sodoma per andare diciamo da lotte i due angeli mentre l'eterno rimase con Abramo e allora Abramo si avvicinò e disse farai perire il giusto insieme con l'empio alleluia ammesso che si siano cinquanta giusti nella città distruggeresti tu il luogo e non lo risparmieresti per amore dei cinquanta giusti che si trovano nel suo mezzo quindi vedete come il signore aspetta sempre che si arrivi al culmine perché magari Sodomite dice tanto lotte ci dice che questo però il signore non si è fatto mai sentire quindi si vede che invece possiamo continuare a fare così alte perché ancora non ha raggiunto il culmine perché non appena dove dice ecco come quella goccia che fa traboccare il vaso amè gloria a Dio tant'è vero guardate che il signore eh non è stato che il signore non fece entrare il suo popolo di Israele nella terra di Canaan prima eh perché dice l'iniquità dei Cananei non aveva raggiunto il culmine fratelli quando si raggiunge il culmine vedete che c'è non c'è più niente da fare è come Sodoma e Gomorra è come il diluvio ai tempi di Noè quindi uno deve pensarci prima quando il signore dà la possibilità di ravvedersi di mettersi in regola con Dio mi capite cioè riesco io a farmi capire gloria a Dio alleluia fratelli questa queste e questi insegnamenti sono veramente di vita eterna alleluia perché alleluia un domani quando vi ritroverete davanti al signore per essere giudicati oppure ci ritroverete eh dice guarda ma no io questi insegnamenti non li ho mai ricevuti non li ho mai sentiti dice il signore e necca vedi che tu questi insegnamenti li hai ricevuti sempre solo che da un orecchio sono entrate dall'altro orecchio sono uscite è come quell'acqua che cade sulla roccia se bagna si subito però poi si asciuga alleluia non assorbe alleluia gloria a Dio ora vedete il signore tanto è vero quando c'è guardate che quando ancora si trovavano 50 giusti in Sodoma e Gomorra l'eterno non intervenne perché perché alleluia avrebbe fatto un viaggio inutile perché non appena Abramo gli avrebbe detto dice se ci sono 50 giusti faresti tu per rire 50 giusti dice il signore avrebbe dovuto no e lui dice aspetta che me ne rotondo perché 50 giusti Abramo quindi se ci sono 50 giusti quindi me ne ritorno non posso fare no quindi il signore aspettò dice in modo tale che quando Abramo mi dice se ci sono 50 giusti io ci rispondo no non ci sono e se Abramo continua e mi dice e se ci sono 45 io ci rispondo no non ci sono ancora 45 e se Abramo continua e mi dice 40 30 20 o 10 io gli risponderò sempre non ci sono amén alleluia quindi quando l'ira di Dio quando il decreto da parte di Dio parte non lo fermo fratelli è lì che poi è troppo tardi quanti quando venne il diluvio sulla terra incominciarono a gridare a Noè aprirci la la porta dell'arca signore perdona allora è vero quello che diceva Noè fratelli ci fu più niente da fare non ha fatto il signore un'arca eh di riserva per i pentiti dell'ultimo momento amén ci risulta una sola fu l'arca quindi tutti dovevano mettersi in regola prima che la porta dell'unica arca si chiudesse alleluia ora fratelli questi insegnamenti ci vengono dati dal signore perché come sta scritto non c'è nessun giusto neppure uno fratelli tutti abbiamo bisogno perché chi di più chi di meno tutti sbagliamo ma che ognuno di noi sbagli senza accorgersene fratelli perché se io me ne accorgo di sbagliare fratelli non sogno talmente cratine deficienti di continuare a sbagliare perché ci ci va di mezzo la mia anima allora quindi non appena io vedo che sto sbagliando perché fratelli se non c'è lo spirito santo c'è la coscienza che ci suggerisce se la cosa è giusta e se è sbagliata e allora se c'è la coscienza ciò significa che ancora c'è speranza ma quando fratelli neanche la coscienza ci suggerisce gli errori che stiamo commettendo si vede si vede che già la fine è vicina di quella persona alleluia amen gloria all'altissimo e così guardate come il signore appunto diede la possibilità a tutti eh anche ai generi dice che avevano sposato le sue figlie di lotte e contemporaneamente chiaramente anche alle figlie no ma questi parve loro dice di scherzare alleluia parve loro di scherzare perché perché la cosa non ci conveniva dice perché non gli conveniva perché già fratelli si vede che vivevano nel peccato sia sia i generi che le mogli cioè figlie di lotte quelle figlie di lotte e i generi vivevano nel peccato non erano degni di essere salvati alleluia perché fratelli ecco vedete dice per chi gloria a Dio grazie Gesù che bello quando il signore dà all'improvviso guardate perché seguitemi attentamente intanto nella famiglia di lotte già ce n'erano quattro no se non vado errato sì quattro perché c'erano lotte sua moglie e due figlie quindi erano quattro no e allora l'angelo ha detto a lotte vai a dire ai tuoi generi e alle tue figlie che escano pure loro eh quindi con molta probabilità eh con molta probabilità i generi e le figlie che sposate di lotte avrebbero raggiunto il numero dei 10 che il signore non avrebbe potuto intervenire con il con il coso diciamo con il fuoco no quindi ciò significa che che le altre figlie e i generi di lotte non eh si potevano annoverare tra i giusti perché se sono dei giusti non punisco la città a me gloria a dio alleluia e guardate come il signore ha dato vedete l'avvertimento che il signore dà l'avvertimento eh quasi direi finale perché fratelli per le figlie di lotte sposate e i generi è stato l'avvertimento finale è vero o no perché poi dopo di quel non c'è stato più nessun avvertimento alleluia quindi per lotte e la sua famiglia è stato l'avvertimento finale pure ecco uscite alleluia amén gloria a dio e allora guardate cammin facendo alleluia ecco l'angelo dice vai verso il monte e salvati lì non possa arrivarci ha paura lotte che non possa arrivare prima che il disastro sopraggiunga allora chiede di potersi fermare a Soar che era una piccola un piccolo paese una piccola città eh allora dice bene vai però non ti voltare indietro guardate fino all'ultimo come il signore dà la possibilità eh vedete fratelli alleluia la moglie di lotte disubbidisce si volta indietro bene detto l'eterno vedete come anche per lei è stato un avvertimento l'avvertimento finale è fatale nello stesso tempo alleluia benedetto sia Dio perché voi cosa pensate che il signore quando fece diventare una statua di sale la moglie di lotte sia stata all'improvviso io penso che lei girandosi l'avrà avvertito che stava succedendo qualcosa dentro di lei e chissà se non abbia gridato al signore signore che cosa ho fatto troppo tardi ti avevo avvertito prima perché in poche parole fratelli o signore o dico in dialetto poi dico in italiano non ne può correre sempre da rete come quella mamma che ci cura da presso o viceritto che non vuole mangiare e mangiate e chiede e faccia e sempre no allora Dio alleluia figli capricciosi non ne vuole non vuoi mangiare e non mangiare a cup e toi io ti ho provveduto sei tu che non vuoi mangiare amene ora la moglie di lotte pensava ma si sono stati gli angeli in casa mia io gli ho preparato da mangiare quindi ecco già si sentiva come una persona privilegiata no perché aveva preparato i panni e azimi no aveva quindi perché pensate che insieme alle figlie aveva preparato per gli angeli no quindi lei si sentiva come ora privilegiata a me un signore non mi tocca quindi pure che l'angelo mi dice se ricorderà che io ci devo mangiare se guardate ecco e quando avrete fatto dice tutto quello che vi è stato insegnato dovrete dire siamo servi inutili perché avete fatto quello che vi è stato imposto di fare quello che vi è stato insegnato di fare quindi perché ospitare nell'ospitare delle persone e provvedere loro da mangiare non è una cosa è un dovere quindi se Lotta aveva ospitato i due angeli era un dovere dalla parte della moglie e delle figlie di preparare per loro per gli angeli da mangiare quindi vedete come non gli serve a niente alleluia perché uno pensa ah perché io sogno figlio di pastore o perché io sogno pastore perché io sogno la moglie di pastore o però qua fratelli se ognuno di noi non fa la propria parte alleluia e quando fa la propria parte non deve farne neanche un vanto non deve sentirsi privilegiato nei confronti di Dio perché nel momento in cui disubbidisce pagherà e quello che ha fatto non gli conterà niente come la moglie dell'Otta che cosa gli è servito che ci deve mangiare agli angeli che poi ha disubbidito a niente alleluia amén gloria a Dio vedete allora ecco fratelli noi ci stiamo avvicinando al millennio fratelli come Lot e le due figlie si stavano avvicinando alla salvezza alleluia però prima vedete il Signore ha avvertito ha messo in guardia fratelli il Signore potrebbe potrebbe metterci alla prova anche il giorno prima di entrare nel millennio come la moglie di Lot che fu alleluia messa alla prova la stessa notte alleluia la stessa notte perché dopo poco arrivò per lei la sentenza da parte di Dio amén gloria a Dio madre fratello non mi fai scantare questa cosa meglio mi fai scantare oggi io che soffrite domani amén e anzi se qualcosa a me sfugge voi è vostro dovere per il vostro interesse personale come anche per il mio interesse Signore se c'è qualche altra cosa che tu questa sera non hai detto Signore fammelo capire perché io possa mettermi in regola e quando arriva il giorno del giudizio io possa essere liberato liberata amén mio Signore mio Gesù non vittoria d'aventura libera mi rispondi sempre viera in modo te per guida e la vita non è pace e bene c'è il Signore mio Gesù non è gloria da di tu non è sui mani miei di chiaro verità sono le mole in amore e di caprici a non so sono un'amore in poche con te e ancor meno in quel che ho mio Signore mio Gesù do gli gloria alla di che trovarmi sono qui hai più da la tua vieta si ti avendo in te la fede viva in te in te l'uomo in te vento la salvezza la pazienza non ha più io Signore mio Gesù con vittoria l'aventura alleluia dacci la forza Signore e insieme alla forza dacci la sapienza alleluia gloria al tuo nome per poter agire Signore vivere sapientemente con quella sapienza Signore che viene dall'alto che procede da te Signore non quella sapienza che l'uomo pensa di possedere crede di possedere come lo credevamo noi un tempo alleluia ma Signore quando la tua divina sapienza è incominciata a manifestarsi nella nostra vita ci siamo accorti che la sapienza nostra è la Signore spazzatura alleluia gloria al tuo nome quindi o Signore non ci fare vivere più sapientemente secondo l'uomo ma sapientemente secondo Signore te con la guida perfetta dello Spirito Santo in ogni cosa alleluia guida i nostri passi i nostri pensieri e i nostri sentimenti sgrida il male e il maligno ed ogni pensiero Signore malvagio Signore che si viene a presentare nella nostra mente te lo chiediamo nel nome di Gesù benedetto in eterno Amen 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 Amen